Permane ancora incerto il futuro della Vias Auto. Per la fabbrica di ammortizzatori fondata nel 1908 con 242 dipendenti, ieri sono scaduti i termini per i potenziali acquirenti per presentare una richiesta d'acquisto e scongiurare così la chiusura degli stabilimenti. Solo questa mattina il commissario giudiziale Antonio D'Addario incontrando le rappresentanze sindacali e di vertici delle istituzioni ha comunicato che la società OCAP di Rivarolo Canavese ha dichiarato il suo interesse all'acquisto. La società del Canavese che produce componentistica per autoveicoli per una decisione definitiva ha chiesto però ancora 15 giorni di tempo per esaminare la consistenza patrimoniale della Vias Auto. Il commissario ha concesso la proroga che dovrebbe scadere il 30 febbraio prossimo. La situazione secondo i sindacati è molto critica con scarse possibilità di dare il lavoro a tutti gli attuali dipendenti. Ad ogni modo per esaminare a fondo il problema per questa sera alle 20, per iniziativa delle istituzioni è in programma in provincia un incontro dei responsabili dei sindacati che vedrà la partecipazione del nuovo prefetto Paola Picciafuochi, del presidente della provincia di Asti, Maria Teresa Armosino e del sindaco Giorgio Galvagno. I carabinieri stanno indagando per fare luce sulla rapina che ha visto come vittima Franco Trento, 48 anni, presidente dell'Associazione Commercianti di Moncalvo. Come ricorderete nella tarda serata di martedì scorso, il commerciante uscendo di casa per andare ad una riunione della Proloco sarebbe stato aggredito alle spalle da uno sconosciuto armato di coltello. All'intimidazione di consegnare il portafogli l'uomo avrebbe reagito e sarebbe nata una violenta collutazione con il commerciante che seppur ferito ad un braccio da una coltellata sarebbe stato aiutato da un amico per respingere l'aggressore. Franco Trento, medicato al pronto soccorso dell'ospedale di Casale Monferrato, guarirà in pochi giorni. Ieri i carabinieri hanno sentito l'amico che ha soccorso la vittima ed hanno interrogato a lungo un giovane trovato con un coltello in tasca e quindi si aspettano sviluppi. E sempre ieri la polizia ha arrestato un operaio abitante ad Asti per maltrattamenti in famiglia. L'uomo ha 59 anni ed è dipendente di una impresa edile. Oltre a non dare alla moglie e dalla figlia il denaro per il loro sostentamento, sovente, specialmente dopo aver bevuto alcolici, picchiava la congiunta. La donna, stanca di essere maltrattata, si è rivolta al comandante della squadra mobile presentando anche referti medici attestanti ferite in varie parti del corpo. La polizia, espletate le necessarie indagini, a seguito della denuncia alla magistratura, il giudice Aldo Tirone ha ordinato la custodia cautelare in carcere. Continua in varie zone della provincia di Asti il disservizio telefonico con frequenti e lunghe interruzioni di linee. Da alcuni giorni si segnalano disfunzioni nei territori dei comuni di Refrancore, di Via Rigi ed in alcune zone del nord di Asti. Le lamentele naturalmente sono numerose, così come gli inevitabili danni per il disservizio ed anche la perdita economica conseguente. Molti utenti reclamano inoltre la completa inadeguatezza dell'assistenza con interminabili attese per poter segnalare il guasto. In particolare alla richiesta degli utenti di far intervenire i tecnici da parte delle compagnie telefoniche, la risposta è che saranno contattati entro 72 ore. In realtà del tecnico neppure l'ombra ed i telefoni rimangono muti, così come i gestori delle reti telefoniche. E con questo da Asti abbiamo concluso. Grazie come sempre per averci seguito, la linea torna allo studio.